Le persone si sente che si mettono in gioco nel profondo. Non è mai un sedersi e dire delle parole distratti pensando ad altro. Condividi le fatiche come condividono tutti. Puoi sostenere Don Cristian e altri 33.000 sacerdoti che ogni giorno dedicano il loro tempo a chi ha bisogno. Anche a te. Scopri come su unitineldono.it